Patrick, benvenuti a Wolves. Grazie. Come si sente di aver fatto questo movimento? Sono molto felice, molto felice di essere qui perché il club mi ha cercato e sono davvero contento e voglio dare il massimo per questa squadra. Qual è stato per il progetto che ti ha attratto? No, beh, mi ha cercato tanto. Poi il fatto di giocare in Premier League con Wolverhampton è davvero bello e non vedo l'ora di iniziare. È una nuova lega e un nuovo paese. C'è quanto ti sentite a esperienza e a testare tu? Sì, beh, io sono venuto qua per giocare a calcio, quindi all'inizio sicuramente mi dovrò ambientare ma già non vedo l'ora di entrare in campo a giocare. Sì, hai già avuto l'esperienza di giocare per una squadra massiva come AC Milan e già in Europa. Cosa credi che ti aggiungi a questa squadra? Ma diciamo che non si smette mai di imparare, quindi sono qui per imparare nuove cose come sempre e poi io la squadra sicuramente darò il massimo di me stesso. I fans sono molto entusiati per vedere tu e per vedere tu giocare. Quale sia il tuo messaggio a loro? Ai fans posso dire che sono molto contento di essere qui e che non vedo l'ora di giocare e sentire il loro sostegno. Sono qui. Grazie.